Buona serata da vivere nuovamente con una mente nuova e dai oggi parliamo un attimo di che cosa ci rende realmente autentici oggi l'autenticità secondo me è un fattore molto importante e non c'è prezzo all'autenticità oggi in una società mirata al consumo, alla produzione smisurata delle cose e alla commiserazione e anche alla misura di un individuo in base al prezzo e alla numerica quello che è importante è sentirsi autentici, cioè essere realmente se stessi quindi non ricoprire un ruolo ma vivere nell'essenza quello che siamo realmente e vi lascio quindi con questa riflessione una riflessione molto importante ci sentiamo domani, ciao